Ciao a tutti, come vedete non vi parlo dalle colline ombre ma vi parlo dall'Himalaya dove sono, mi trovo in questo momento per seguire alcuni progetti della comunità di etica vivente che ha qui due centri. Il mio nome è Fiorenza Bortolotti e sono uno dei formatori della comunità di etica vivente, sono anche responsabile dal 2018 del progetto di permacultura della comunità. Io sono un architetto, mi sono occupata di pianificazione del paesaggio, di progetti partecipati e anche di progettare e realizzare insieme ad altri colleghi molte delle costruzioni della comunità che vedrete a diversi centri. Quello che volevo dirvi è che il progetto che vi proponiamo, il progetto Living, non riguarda solo formazione ed esperienza pratica in campo ma riguarda anche proprio un'esperienza di vita. Noi abbiamo sperimentato in questi anni con altri giovani, anche europei, quanto è importante non solo l'offerta di imparare qualcosa sulla permacultura, di applicarla e anche l'agricoltura rigenerativa ma proprio di vivere questa esperienza. Viverete insieme ad altri giovani in uno dei casali della comunità che affaccia sulla bellissima Valle di di terra attorno dove abbiamo dei progetti pilota e avrete la possibilità di sperimentare un modello di vita che noi abbiamo sviluppato in oltre 40 anni della vita della comunità che si basa su principi e valori etici che partono dalla psicosintesi ma comprendono molte altre cose come la vita di gruppo, le regole da rispettare, da condividere, la vita proprio da organizzare, il ritmo, la condivisione, molte altre cose che avrete modo di sperimentare, la meditazione, molte cose, non ve le dico tutte se no non venite più e penso ecco credo che questo aspetto insieme alla permacultura che io ho conosciuto vent'anni fa e che mi ha convinto immediatamente, mi ha fatto innamorare e io definisco la psicosintesi della terra e ecco tutte queste opportunità spero che possano aggiungere qualcosa ad un progetto bellissimo che però non è solo un progetto di formazione e di esperienza in campo ma è un progetto proprio di vita che può farci cambiare perché la cosa più importante è conoscere e cambiare noi stessi all'interno, ciò che è dentro, solo ciò che è dentro può riversarsi in ciò che è fuori, solo ciò che è in alto diventa quello che sta in basso, per cui vi aspettiamo tutti e arrivederci, sono tornata, ciao!